Cioè, già abbiamo problemi di illuminazione, abbiamo problemi di spazio, abbiamo problemi di tutto Ora c'è anche un piccolo problema nero che ci gira sul tavolo Intanto, prima presa sul culo, prima piano sul culo della gatta che tappo Perché sennò poi arriva lo strike al canale Cioè, si può fare un video con una gattina bellina così che ti gira? Direi di no Iniziamo Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare Clinique, nella nuova versione uscita da poco La versione Deluxe Edition, edizione italiana della GiochiX Che io ringrazio per avermi proposto e avermi fornito Questa edizione italiana, che tra l'altro poi non vi dico niente prima Perché il responsivo lo voglio dare sempre in fondo e cosa ne penso Però un gioco che mi ha colpito molto Perché ci ho visto delle meccaniche degne del miglior videogioco Del tipo, se vogliamo citare, perché la prima cosa che ci viene in mente è Demo Hospital Quindi giochi del passato, che tra l'altro recentemente hanno anche rifatto sotto un altro nome Ed è veramente, veramente ragazzi interessante come gioco Perché ci vede nei panni di un primario o comunque un imprenditore Perché questo è un gioco competitivo, quindi non è un gioco collaborativo Laddove dovremo andare a costruire l'ospedale e la clinica perfetta Guadagnando più punti possibile in competizione con l'ospedale degli altri giocatori Quindi fate conto che il gioco è ambientato in una grande città Dove ciascun giocatore dovrà costruire l'ospedale perfetto e più attrezzato E a fine partita aver guadagnato più punti possibile Quindi vincerà il giocatore che avrà guadagnato più punti Ed è un gioco molto interessante perché a volte si dice Ma come potrebbero fare a passare un videogioco oppure l'idea di un videogioco in un gioco da tavolo Cioè si può fare, non si può fare Perché ovviamente sei più limitato anche per le componenti e le cose che c'è dentro Secondo me questo gioco qui da tavolo non ha niente in meno di un capolavoro come Demo Hospital del passato Titolo che insomma, quelli perlomeno della mia età, 80-90 avranno giocato più o meno tutti Ed è un gioco molto interessante Ora le regole non sono complicate per niente Le regole sono facilissime però c'è tante cose da tenere a mente Quindi come dico sempre, quando dico un gioco è complicato Non vuol dire che le regole sono semplici Perché magari le regole sono le più facili del mondo Però c'è tante cose da tenere a mente E quindi c'è un po' da tenere appunto in testa Sono diverse le cose, i movimenti, gli spostamenti che dovete fare, le costruzioni e quant'altro Quindi non è di più semplice, mettiamola così Però sono convinto che basterebbe una partita a farvi capire appunto il meccanismo È un gioco da 1 a 4 giocatori, età a 14 anni in su E la durata media è 120 minuti Si ci sta anche perché poi il gioco si espande in 5-6 turni Ora comunque poi ve lo faccio vedere Veramente veramente interessante Unboxing, scatola rettangolare Non molto larga però ovviamente è fatta apposta Guardate bellina anche nella versione deluxe Che è fatta proprio tipo l'ospedale Vedete l'entrata dell'ospedale Magari i primi ambulatori o il triage o qualcosa del genere E poi i piani successivi dove ci sono le varie strutture cliniche Perché proprio in questo gioco potrete costruire su più piani Nella tessera base vi viene data la possibilità di costruire al pianterreno al primo piano Però potete costruire anche con tecniche avanzate al secondo e al terzo piano Quindi potete costruire veramente un ospedale non solo in altezza ma anche in larghezza Poi vi farò vedere perché potete costruire anche più di una struttura E la scatola è veramente bellina Anche i disegni che ci sono Veramente molto molto accattivante Apriamo Sacchettino con tutti i meeple Sono due sacchettini E all'interno di questi dovete metterci tutti quanti i meeple I token che ci sono I cubettini e quant'altro che vi faccio vedere dopo Comunque sono due sacchettini Regolamento di gioco Illustrato tra l'altro benissimo Descritta ancora meglio Pieno zeppo di disegni colorati Soprattutto pieno zeppo di esempi Per farci capire meglio le regole E ben o male in tutta una ventina di pagine Diciamo sono 16 pagine Perché poi le ultime 4 o 5 Una cosa del genere sono varie regole Addirittura ci sono delle regole particolari In questa versione deluxe Per fare avvenire un'infestazione zombie All'interno dell'ospedale Che non c'entra niente con l'ambientazione Però è bellino Secondo me dà quel che In più che lo rende una specie di The Walking Dead Però sono tutte quante cose opzionali Tabellone generale delle azioni Dove tutti quanti i giocatori si muoveranno E poi ovviamente ve lo faccio vedere Aperto sul tavolo Monete Che qui vedete nel taglio 5 dollari Poi c'è nel taglio da 1 dollaro E da 25 dollari Bustine Per conservare tutto quanto Quindi seriano sempre beneditti Quando ce le mettono Un po' di Mipolvari Che comprendono dottori E poi ci sono La maggior parte Sono dentro la bustina Che vi ho fatto vedere prima E poi ci sono tutti quanti I contatori Che servono per tenere Traccia del turno E di tutti quegli spostamenti Insomma E le azioni che facciamo Sul tabellone generale Quella a disposizione di tutti Tutte quante le strutture Che è possibile costruire in gioco Tipo gli ambulatori Strutture speciali Strutture tipo il triage Sale operatori E quant'altro Comprensiva anche di parcheggi Insomma soldi Qui ci sono tutti quanti I token E le parti del gioco Che vanno staccate E poi Le plance di gioco Di ciascun giocatore Dove qui dovrete costruire Il pian terreno Del vostro ospedale Ovviamente qui vi da sempre Un costo di quello Che andate a spendere Per costruire le varie strutture E vari piani Gli appuntamenti Per i vari reparti Che ora poi ve li faccio vedere Sempre poco più avanti E il primo piano Della struttura Quindi potete costruire Vedete la vostra struttura Il pian terreno Al primo piano E poi ci sono altre tabelle Che vi consentono di costruire Anche sopra Per un terzo e quarto piano Ragazzi Come vedete Di carne al fuoco Ce n'è veramente tantissima E Non vi fate impressionare Da 2000 icone Cose varie Che ci sono Perché poi alla fin fine Il funzionamento del gioco È semplice Non è un gioco complicato Mi correggo rispetto a prima È un gioco complesso Nel senso che ha tanti simboli Tante cose da tenere a mente Però vi assicuro Che poi Il gioco è veramente facile E nel setup iniziale Tutto quello che vedete È il setup Per una partita Due giocatori Ma si può giocare Anche come avete visto all'inizio Vi ho detto Fino a quattro giocatori Comunque Nel setup iniziale Vedete Questo è il tabellone di gioco Dove si fanno le azioni in comune Che nella fattispecie Noi abbiamo scelto Giocatori col colore blu Sono Un token Sul tracciato Del tempo Che è questo qui sopra Tanto vedete C'è il simbolo del tempo Quindi Uno del vostro colore Sul tracciato del tempo E uno sotto Sul tracciato della popolarità Che poi vedete Fa tutto quanto Il giro del tabellone Come in brass Insomma in tanti altri giochi Barrage Del tipo che abbiamo visto Poi Nel setup dovete mettere Tante tessere Quanto ovviamente vi dice Il setup di una partita A due giocatori Dovete mettere Prima di tutto I dipartimenti I dipartimenti Nel gioco sono 5 Qui ve ne mostriamo Soltanto 3 Perché nel setup Di una partita A due giocatori Comunque sono nella fattispecie Psichiatria Cardiologia Oftalmologia Che anche è un casino Assurdo dirlo Insomma è L'oculista E poi ci sono anche L'ortopedia E la neurologia Ma ripetono Una partita A due giocatori Non li utilizzeremo Gli ambulatori Tanto vedete Comunque c'è scritto Sempre accanto Quindi qui accanto Tessere racioni Ambulatori I magazzini I moduli speciali Che possono essere Tipo il triage Ad esempio Il laboratorio La sala Per le operazioni chirurgiche E quant'altro I giardini Che sono qui accanto Gli heliporti Il trasportatore Che il trasportatore Nel gioco Vedetelo proprio È brutto da Dizzi Ma lo dice anche Il regolamento Come una specie Di teletrasporto Serve per muoversi Più velocemente Nel vostro ospedale Poi ci sono Le entrate I parcheggi I trasportatori Sono questi qui E poi tutto quanto Il mucchio De soldi laggiù Nella plancia principale Abbiamo l'ordine Delle azioni Perché ciascun giocatore Ha tre azioni Nel proprio turno Quindi tre azioni Giocatore A Tre azioni Giocatore B E così via Abbiamo il contatore Dei turni Perché nel gioco Ci sono sei turni Quando finisce il primo turno Si va giù E quando arriva Sei turni Ci sarà l'ultimo turno E poi sarà finita la partita L'ordine di turno Nel caso Il giocatore blu È il primo Il giocatore giallo Ad esempio Il secondo E il giocatore Magari grigio È il terzo Quindi qui si mette L'ordine del turno Quassù in cima Si mettono medici Pescati a caso Nell'università Seguendo sempre In tutto il gioco Se ne farà sempre riferimento I colori Che sono quassù Quindi un medico rosso È più addestrato Di un medico arancione Che a sua volta È più addestrato Di un medico giallo E poi di quello bianco Vanno messi sempre Nell'ordine che c'è qui Quindi Uno Di quelli pescati Per un setup a due Quindi giallo prima E bianchi dopo Poi qui ci sono Gli infermieri Sulla colonna Per una partita A due giocatori Quindi mettete I vari infermieri Colonna dei giocatori attuali Più ordine dei turni Qua giù sotto È portantini E qui mettete Nei parcheggi Tutte le macchine Che sono nel gioco Perché le macchine Sono sia dei dipendenti Dell'ospedale Tipo dei dottori Infermieri E così via Ma sono anche le macchine Dei pazienti ricoverati Dentro l'ospedale Perché la gente Un'è che arriva Col teletrasporto Per quanto c'è In questo gioco E poi Sul tabellone Come ho detto C'è sempre L'esempio E il disegnino Di tutte quante Le azioni Che potete fare Azioni che sono tante Sono anche semplici C'è alla fin fine Da vedere Perché non sono Complicatissime Comunque diciamo Che le azioni Sono tante Da tenere a mente Ma ce le avete Sempre descritte Sul tabellone generale In questo tabellone Potete fare Le tre azioni Come detto Quindi tutti i giocatori Hanno fatto la prima azione Sì Questo passa qui Tutti i giocatori Hanno fatto la seconda Certo ordine Che poi Vi vado a descrivere Ora Perché le azioni Che si possono fare Ovviamente sono tre Si possono fare Anche più volte La stessa azione Uno può fare Anche due volte La stessa azione Però le azioni Che si possono fare Sono tre distinte E poi qua giù All'inizio C'è l'elenco Questa qui in agenda Vedete L'agenda dei ricoverati La partita inizia Con dei cubetti Pescati a caso Che anche i cubetti Seguono sempre Il colore dei medici Quindi un cubetto rosso È più forte Di un cubetto arancione Un cubetto arancione È più forte di uno giallo E si pescono Ciascuno per i tre reparti Che sono presenti in gioco Quindi Psichiatria Cardiologia E oftalmologia Questi qui Nella colonna rossa Sono sempre I pazienti Che devono essere operati Quindi quelli A rischio più grave Rosso E quindi sono quelli Che dovranno passare avanti Ed essere operati E dalla parte di qua Vedete tutta quanta La riserva Per le tessere Che poi dovranno essere Andare a pescate Quindi quando voi dovrete Costruire un ambulatorio L'andrete a pescare Di qui C'è l'ambulatorio E l'andate a costruire Direttamente Questa è la plancia Di gioco Di ciascun giocatore Dove ognuno Punta la sua E si potranno Costruire gli ospedali Vedete no? Qui su queste caselle Ora Ciascun ospedale Ha nella plancia Di base Pian terreno Primo piano E poi ci sono Plancette alternative Che non le prendete Fino a che non le dovete usare Che sono il secondo piano Da mettere sopra Ovviamente al primo E il terzo piano Da mettere sopra Al secondo Ma per ora Non ci interessano E le sposto anche Per fare un pochino Più di spazio Comunque Nel setup iniziale Ci dice il gioco In due giocatori In modalità semplice Dovete mettere Un'entrata E le entrate Vedete le dovete Sempre mettere Nella casellina Esterna Quindi Qui ci va sempre L'entrata Poi dovete mettere Un dipartimento Che in questo caso È la psichiatria Poi Qui accanto Ci dovete mettere Un ambulatorio E un magazzino Perché regola di gioco Vuole che Intanto le cose Le dovete sempre Costruire Adiacenti Collegati Però Regola del gioco Vuole che Quando voi Posizionate Un dipartimento Accanto al dipartimento Per poter funzionare Ci deve sempre 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 Essere Un ambulatorio Poi L'ambulatorio A sua volta Per funzionare Deve avere anche Accanto Un magazzino Perché Senza Poter andare A prendere le scorte Ovviamente Non può funzionare L'ambulatorio E di conseguenza Il dipartimento Quindi Quando andate A costruire Un dipartimento Ricordatevi Che senza Il suo ambulatorio Accanto Il dipartimento Non può funzionare Perché praticamente Laddove Devono passare Tutti quanti i pazienti Per poi arrivare Alla fase operatoria Quindi ricordatevi sempre L'ordine che vi ho detto Dipartimento Ambulatorio E magazzino Devono sempre Devono essere collegati Quando andate A costruire Una struttura Vedete che c'è sempre Un disegno sopra Un moltiplicatore Una cosa del genere Quindi Quando si va A costruire Ad esempio Un magazzino Automaticamente Ci viene dato Anche un portantino Da aggiungere Al magazzino Perché sono quelli Che portano in giro La roba O portano anche Le barelle Con i pazienti Poi Sulla tabella Quaggiù Ci sono Tutte quante Le persone Vedete Per ciascun dipartimento Ci possono essere Fino a 4 slot Quindi 4 persone Operate in quel dipartimento Quindi nel caso Di psichiatria Se abbiamo Vari pazienti Messi qua giù Questi saranno Quelli che verranno Operati In psichiatria Per andare avanti Perché qui nel gioco Il paziente Una volta che è Nell'ospedale O se ne va Perché l'avete operato O se ne va Perché è morto Purtroppo Poi Sotto abbiamo L'ordine delle azioni Per le tessere Che dobbiamo mettere Sotto scoperte E poi le andiamo A scoprire Per vedere che azioni Si andrà a fare Che le tessere Sono queste Che vedete qui accanto I soldi Di partenza Questo qui è un cursore Più 50 punti Che al momento Non ci serve Ci potrebbe servire Più avanti Nel caso Sfondiamo la mappa Del De punteggio Appunto Della popolarità E poi abbiamo Un medico Di partenza Che è un medico Di colore bianco E la macchina Del medico Poi Sempre sul tabellone Ci dice Che i magazzini Vedete Eccoli qua Sono rosa Per il colore Ci costano zero Quindi quando andiamo A costruire un magazzino Al pian terreno Non ci costa niente Poi Ambulatori Vedete Zone speciali Eliporti Giardini Oppure anche Dipartimenti Che sono Questo simbolino qui Sono i dipartimenti Vedete che ci costano Due dollari Mentre invece Se andiamo poi a costruire In altezza Al primo piano I magazzini Iniziano a costarci Un dollaro Vedete che Tutto il resto Come vi ho detto prima Invece di due Inizia a costare tre E i trasportatori Che sono questi qua Queste specie di teleport Che poi vi faccio vedere Iniziano a costare Due Ora Cosa importante Noi abbiamo Queste azioni qui Che sono sempre due azioni uguali Ora ve le giro Ve le faccio vedere In questo caso qui Ne abbiamo due uguali Che devono sempre essere tenute a faccia in giù Due uguali di costruzione Vedete Perché le azioni che si possono fare nel turno Sono E l'ordine che bisogna seguire nel turno È il seguente In un turno si possono fare Si possono ovviamente Vagliare Le seguenti scelte Che sono Azioni Affari E amministrazione Le azioni si suddividono A loro volta in costruire Che è la cosa più importante Ovviamente il costruire All'ospedale Che ora vi faccio vedere Assumere Quindi Assumere nuovi dottori Assumere nuovi infermieri Assumere nuovi portantini Insomma Assumere nuovi dipendenti Per il nostro ospedale Azione 3 Ricoverare i pazienti Poi La sequestrano le azioni La prima fase La seconda fase Ci sono gli affari La terza fase E l'ultima È quella ovviamente Di un reset up finale Prima di iniziare un nuovo turno Che è la fase Dell'amministrazione Ora Quando si vanno a fare Queste azioni All'inizio del turno Ricordatevi sempre Uno di muovere il cursore Sulla mappa generale Che vi ho fatto vedere prima E Regola vuole Che quando si passa Da la prima azione Quindi La prima Chiamiamole fase Dalla prima fase Alla seconda fase Alla terza fase Devono essere pescati Nuovi pazienti Che poi vanno messi Nell'agenda Del tabellone generale Comunque le regole Per la costruzione Sono quelle Che bisogna sempre Costruire Ortogonalmente E in maniera Adiacente Seguendo ovviamente Delle regole precise Ora Girando queste tabelle Che devono essere Sempre messe a faccia L'ingiù I giocatori Devono decidere Quale azione fare Perché io potrei dire Ok faccio Un'azione Scelgo di fare Un'azione di costruzione Come vedete Come prima azione Quando le scegliete Vanno messe qui sotto Quindi ricordatevela sempre Assumere Quindi la seconda tessera Con le due mani Che si stringono È assumere Mentre invece La terza Serve per Ricoverare pazienti Banale dirvi che Avete tre azioni Però come vedete Ne avete due per tipo Quindi due per costruire Due per assumere E due per ricoverare Ma le azioni complessive Sono tre Quindi sì Potete fare due volte la stessa Però poi ne dovete scegliere Comunque un'altra Mettiamo caso Che io nella prima Metto coperto Il costruire Che ora ve lo faccio vedere scoperto Però questi qua Si dovranno sempre mettere coperti Perché fino a che Non finiscono tutti quanti i turni Il giocatore non deve sapere Ovviamente il vostro avversario Che mossa avete fatto Comunque mettiamo caso Io ho messo Ne metto una, una e una Costruire Assumere Così ve le faccio vedere Tutte quante E l'ultima è Ricoverare Quindi queste sono le tre azioni Che io andrò a fare Nel mio primo turno Quindi costruire Posso andare a costruire delle cose Che ne so Potrei dire Ok Voglio costruire Al pian terreno Quindi mi costa due Una di queste strutture Che ci sono qui L'unica regola vuole Che per ogni piano Anzi Per ogni piano Barra Per ogni struttura Non potete costruire Mai più di un dipartimento Quindi se questo Primo piano Ci avete messo La psichiatria Rimane la psichiatria Non è che ci potete mettere Un altro dipartimento Ad esempio Oftalmologia L'oftalmologia Se la volete costruire O fate un secondo edificio O se no L'andate a costruire A un piano superiore Perché ovviamente Ci può essere Ogni piano Ha il suo dipartimento Regola vuole Che dovete iniziare Anche a costruire Parcheggi Perché lo vedete Intorno ad ogni casella Ci sono delle caselline piccoline E ci sono caselle grandi Come ad esempio Le stanze Dipartimenti E quant'altro E tessere più piccole Invece tipo I giardini O tessere più piccole Tipo Gli eliporti Ve le faccio vedere Tutte quante messe O anche i parcheggi Queste sono tessere Fatte più piccole Perché? Perché non vanno Struire posti macchina Perché se ad esempio Io Col mio medico di partenza Perché come vi ho detto C'ho un medico bianco E il medico bianco Arriva con la sua macchinina Perché ciascuno Dipendenti Anche ricoverati Hanno bisogno Di un posto auto Quindi se il medico Arriva con la sua macchinina Io la macchina del medico La dovrò andare a parcheggiare Dove voglio Sulla mappa Quindi in qualsiasi cosa di questo Però non posso Andarla a parcheggiare qui Perché vedete che questa zona qui È occupata Da una struttura In questo caso qui È occupata dal dipartimento Di psichiatria Che mi va a tagliare fuori Mezzo quadretto Quindi la potrei mettere qui La potrei mettere qui 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 Insomma la posso mettere Dove voglio Basta che non la posso mettere Nella stessa casella Di una struttura Nel caso ci fosse Qui un giardino Io potrei andare a costruire qui Perché il giardino Non mi va a bloccare I posti auto Oppure posso costruire direttamente Un parcheggio Che sono nei tagli Parcheggio a due posti Vedete c'ha due righette Una e due Oppure parcheggio Con un level up A tre posti Quindi da una parte Vedete che è un parcheggio A due posti Da una parte Vedete che è un parcheggio A tre posti I parcheggi servono Esclusivamente per tenere più macchine Quindi Vi prendo un po' di macchinine Nel caso questo parcheggio Fosse completamente preso Da quattro macchine Fra dipendenti E Ricoverati Quindi se questa zona Fosse completamente presa Io sopra al parcheggio stesso Ho ancora due posti auto E ricordatevi che è importantissimo Costruire parcheggi Perché Regola del gioco vuole Che se non avete un posto auto Per ricoverati Quindi pazienti O personale dell'ospedale Non potete assumere O ricoverare Quindi ci deve sempre essere il posto Ci viene incontro L'eliporto Che l'eliporto Non preclude Il venire a lavorare O essere portati In ricovero Con l'elicottero Quanto il fatto che Potete È un'entrata nuova Quindi come vedete Qui davanti C'è un'entrata nel gioco L'eliporto può essere Tranquillamente Utilizzato come entrata Al vostro ospedale Quindi nel caso Io l'eliporto Lo volessi mettere Ad esempio qui Con l'eliporto Fungerà da entrata Quindi con l'eliporto Posso entrare direttamente O nel magazzino Posso entrare direttamente Nel dipartimento Di psichiatria È un'entrata Che mi porta In tutte le direzioni Però ricordatevi Che anche se c'è Un eliporto Ancora una volta I dipendenti E tutti quanti Avranno sempre bisogno Di un posto auto Quando vi dicevo prima Scusate che ho spostato Un po' tutto Quando vi dicevo prima Che potete costruire Come vi pare Vi ricordo sempre Con la regola Che ciascun dipartimento Deve avere accanto Il suo magazzino Deve avere accanto Il suo ambulatorio Sempre la regola vuole Che l'eliporto Può essere costruito Al pian terreno Al primo piano Al secondo piano Dove volete Però sopra l'eliporto Non ci potete costruire niente Perché sarebbe impossibile Andare a costruire Sopra l'eliporto Quindi nel caso Fosse al primo piano Al secondo La casella dovrà essere libera Ora vi faccio vedere Regola vuole Che potete costruire Tutte le strutture Che vi pare Anche quelle speciali Ne potete costruire Quante vi pare Con l'unica differenza Che potete costruire Solo un tipo Di dipartimento Per piano E poi andando ai piani Superiore invece Potete costruire Quello che vi pare Vi dicevo Potete fare Una struttura unica Vi faccio vedere Un po' veloce Io potrei fare Questa struttura Qui così Ok Andando avanti Nelle azioni future Successive Poi potete costruire Un triage Che è la cosa più Secondo me Una delle più importanti Che c'è nel gioco Lo metto qui Il triage E poi potrei dire Ok Sempre ricordatevi Non vi faccio vedere La spesa dei soldi Ma ricordatevi Che quando costruite I soldi vanno via Poi potrei dire Ok Inizio a costruire Un parcheggio Da due Qui E un parcheggio Da tre Con un successivo Level up No se del genere Qui E poi voglio andare A costruire Boh Un parchetto Qui Quindi ho Già tanti parcheggi Perché ne avrei Qui semplicemente Uno, due, tre Quattro, cinque, sei, sette Di quando avrei Uno, due, tre Quattro, cinque, sei E in più Ho altri quattro posti Qui intorno Però volendo potrei dire O faccio tutto quanto Un piano Qui Che faccio Un ospedale completo Oppure potete fare Anche due ospedali separati Le regole non ve lo vietano Assolutamente Quindi io potrei dire Ok Visto che In un solo piano Posso fare Solo Esclusivamente Un reparto Un dipartimento Però regola vuole Che se io di qua Ci volessi fare Oftalmologia Ad esempio Da questa parte Ad esempio Qui Se qui volessi fare Un nuovo dipartimento Però dovrei Comprare una nuova entrata Metterla Ok Però questo non può Funzionare Come vi dicevo prima Senza il suo Ambulatorio accanto Quindi mettiamo conto L'ambulatorio Lo costruisco qui E l'ambulatorio Non può funzionare Senza il suo magazzino Perché se no Le scorte Da dove si prendono E quindi ci metto Anche accanto Il suo magazzino Da questa parte di qua Quindi io ho fatto Un campus Perché ho fatto Due ospedali separati Però ricordatevi Che sono E ci potrei mettere In mezzo Al solito Parcheggi Ci potrei mettere In mezzo Aiole Ci posso mettere In mezzo Quello che mi pare Però ricordate Che sono due ospedali Separati E per nessun motivo Mai devono contare Come una struttura Unica Quindi da questo ospedale Dovrà essere impossibile Spostarsi in questo di qua E non potrete mai 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 Costruire Una struttura Ad esempio Un magazzino Che vada a collegare I due ospedali Quindi fra un ospedale E quell'altro O ci mettete un parcheggio O ci mettete una aiola Potete farli tranquillamente Però non dovranno Mai in nessun modo Essere collegati Ognuno dovrà avere La propria entrata Quindi anche nel caso Di un eliporto L'eliporto Ti darà accesso A una o all'altra struttura Mai a tutte e due Quindi ogni struttura Dovrà avere il suo parcheggio Ogni struttura Dovrà avere la sua entrata Dovranno avere regole particolari Altra azione È quella di costruire I nastri Che Sembra brutto da dire Però anche così Il trasportatore È trattato come se fosse Un teletrasporto Posso costruirne Pagando sempre due E ne costruite sempre due Perché sono collegati Ne posso costruire Tipo uno Qui E Uno Di qua Questo mi consente Con un'azione Soltanto Di spostare Un dottore Oppure un ricoverato Che i ricoverati In questo gioco Sono cubetti colorati E cose del genere Da un punto A un altro Senza spendere azioni Quindi soltanto Arrivando qui Lo posso spostare di qua Senza spendere nemmeno un'azione Però Devono sempre essere Connessi Ortogonalmente Quindi questo Deve essere connesso così Oppure tutt'al più Questo Potrebbe essere connesso Con questo Quindi sempre Ortogonalmente Non possono mai essere Connessi diagonalmente Tipo questo Non potrebbe essere Connesso con questo Perché non è ortogonale Dovrebbe andare su Però questo A sua volta Potrebbe essere connesso Con questo Quindi queste sono Delle specie di teletrasporto Poi potete andare a costruire Al piano superiore Quindi al piano di qua Ovviamente al piano superiore Non potete costruire Né parcheggi Potete costruire Giardini Potete costruire Eliporto Ma ovviamente Parcheggi no Perché parcheggi sul tetto Non ci sono Non c'è la possibilità Di costruire parcheggi Sopraelevati E cose del genere Potete costruire Tutte le altre strutture Con sempre le solite regole Del piano di prima Quindi magari Una sola struttura Un solo dipartimento E cose del genere Che tra l'altro Può essere anche lo stesso Non vi serve a niente Perché ce l'avete già La psichiatria Però comunque Può essere lo stesso Anche il piano di sotto Regola vuole Che potete costruire Sopra Se sotto C'è una base Quindi Io posso costruire qui Perché sotto C'è un dipartimento È come se Sotto ci fosse il vuoto Per farvi capire Posso costruire qui Perché c'è una struttura Posso costruire qui Posso costruire Non contano Ovviamente Parcheggi Che sarebbe questo E aiuole Comunque verde Giardini non contano Come strutture Proprio strutture vere e proprie Quindi come vi ho detto Posso costruire qui 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 Posso costruire qui Qui E qui Regola vuole Che non posso mettere Adiacente E nel caso del piano superiore Non posso mettere sopra Una struttura Dello stesso colore Quindi qui Vedete c'è già una struttura viola Che è un dipartimento Io qui Non ci posso costruire un dipartimento Lo posso costruire qui Perché sotto c'è una struttura arancione Però qui Non posso costruire Un dipartimento viola Quindi se al piano di sopra Volessi mettere Oftalmologia Lo devo costruire Qui E poi posso fare sempre lo stesso Posso mettere qui un ambulatorio Vi faccio vedere l'esempio Sempre spendendo soldi E tutto quanto E magari dico Ok il magazzino Lo costruisco qui Non posso Perché qui sotto Non c'è struttura E quindi Che li fa da base Quindi posso costruire Tutta più Un magazzino Lo posso costruire Qui Ricordatevi Sempre Esclusivamente L'ordine Di come si possono fare Le costruzioni E Quello che potete costruire Nei vari piani Nastri Trasportatori Come piace chiamarle a me Che possono semplicemente Trasportatore Come vi ho detto Valgono da un punto All'altro Ortogonalmente Ma anche da un piano All'altro Quindi quando io mi posso Andare a spostare Con una singola azione Su e giù Anzi senza proprio Spendere nessuna azione Posso farla anche Da qui A qui Quindi mi posso muovere Anche da un piano All'altro Basta che sia sempre Ortogonale Quindi in altezza E in larghezza Non mi posso mai muovere In diagonale E queste sono le azioni Che si possono fare Più gli appuntamenti Che ora vi faccio vedere Quindi Tornando sul tabellone Principale Quando tutti i giocatori Avranno fatto Le proprie azioni Si passerà Al turno 2 Ricordatevi solo una cosa Le azioni Devono sempre Seguire l'ordine Costruzione Assunzione E ricovero Quindi Se un giocatore Ha giocato Due carte costruzione Prima va lui E tutte le altre costruzioni Anche se un giocatore Ha messo come prima azione Un'azione di assunzione Prima deve aspettare Che tutti facciano la costruzione E poi si va avanti Comunque Tutti quanti i giocatori Hanno fatto la loro prima azione Quindi tutti l'hanno finita Sempre seguendo quest'ordine Quando è finita Questo cursore Si sposta di qua Che vedete Sul secondo turno Col terzo Praticamente c'è la fine del turno Si torna a 0 E si abbassa questo di 1 Che sono i turni generali Per arrivare a fine partita Ci si sposta qui A questo punto Che ci si sposta qui Dal sacchettino Devono essere pescati Nuovi pazienti Nuovi pazienti Uno giallo Per come sono stati pescati Ora si va nella fase Della fase delle assunzioni Nella fase delle assunzioni Potete assumere un medico Che sono questi Quassù Dall'università O potete assumere E o ovviamente Potete assumere Un infermiere E un portantino Quindi un medico Comunque lo potete assumere Poi insieme al medico Potete prendere Un infermiere O un portantino Che vi faccio vedere Come funzionano Comunque Per assumerli Dovete semplicemente Vedere il costo Che hanno Quindi Il più alto Che è quello più Vi ricordo i colori Sono rosso Arancione Giallo e bianco Per i più forti Il più forte ovviamente È il rosso Lo dovete vedere Come un medico Molto molto esperto O nel caso di un paziente Un paziente grave Quello praticamente Che è più difficile Di tutti da curare Quindi nell'assunzione Andiamo a comprare un medico Quindi noi spenderemo Boh Non lo so 4 dollari E ci prendiamo Un medico Uno soltanto Ragazzi Uno soltanto In ordine di iniziativa Quindi Chi prima arriva Meglio alloggia Anche qui Però Devi anche averci soldi Per assumerlo Assumiamo un medico E assumendo un medico Ce lo prendiamo Con la macchinina Quando assumete Un medico Che c'è sempre Il disegnino accanto Quando assumete Un infermiere O quando assumete Un portantino Automaticamente Ve lo dovete prendere Insieme alla macchinina E fargli posto Con la differenza Che quando costruite Un magazzino Un portantino Vi è regalato Direttamente Quando invece Ne volete assumere Altri Perché vi potrebbero servire Dovete portarvi Anche la macchina Quindi il primo è gratuito L'altro invece Ha bisogno di una macchinina Tanto vedete C'è anche il disegno Ci prendiamo Il medico Poi a noi In quel momento lì Visto che c'è un caso rosso E noi non abbiamo medici rossi Qui ce n'abbiamo soltanto Uno giallo Che è due livelli sotto Io dico Ok Mi assumo Un O anche un casa arancione Mi assumo Un infermiere Quindi prendo Questo infermiere Lo assumo E dovete sempre pagarlo Il valore che c'è sopra Quindi nel caso Quello Quassù Dietro i giocatori Lui costa un dollaro Quando si andrà a assumere Questo costerà due Quindi io ho speso Quattro per lui Uno per lui Ho speso in tutto Cinque E anche qui Anche per l'infermiere Mi piglio La macchinina Quindi ho un medico Un infermiere E due macchinine Questa è la fase di assunzione Perché si prendono Gli infermieri Alla fine L'infermiere A cosa serve nel gioco Serve ad aiutare il medico A fare un'azione Perché Quando Dovremmo andare A operare un caso A operare un paziente Si va sempre Sposto qui Per l'ordine dei colori Quindi Un dottore bianco Cura Un paziente bianco Un dottore giallo Cura Un paziente giallo Però Ad esempio L'arancione Come vedete È un livello Superiore al giallo Quindi se capita Un paziente arancione Il dottore giallo Non lo può curare Perché vedete Questo è il dottore E questo è il paziente Quindi Ricordatevi sempre Che sia sopra Che sotto Avete bisogno A distanza di uno Avete bisogno sempre Di una manforte Un infermiere Quindi Un dottore giallo Per quanto è più alto Di grado Di quello bianco Non può curare Un paziente bianco Perché non è del suo stesso colore Il dottore cura Soltanto il suo colore Quindi lui Se va a curare Un paziente giallo Fatto Se lo fa da solo Se lui deve andare a curare Un paziente bianco Quindi Vedendo che il bianco È a distanza Uno dal giallo Ha bisogno di un infermiere Se lui Se lui volesse andare a curare Un paziente rosso Che rispetto al dottore giallo È due posti sopra Quindi due posti A sinistra Ha bisogno di Due infermieri Le regole sono tutte qui Quindi gli infermieri Vi servono per dare Manforte al medico Perché magari Quel medico Non è abbastanza bravo Da curare quel caso Però gli vanno incontro Uno o più infermieri Che li fanno superare La prova Quando assumete qualcuno Come nell'azione Che abbiamo fatto prima Che abbiamo assunto Tutti coloro Che abbiamo assunto In questo turno Tutti quanti Devono essere messi Sull'entrata Quindi vedete Il nostro dottore Non abbiamo messo Facciamo vabbè Conto che già un portantino Ce l'avevamo Ce lo metto io Un portantino Già ce l'avevamo qui Abbiamo assunto Un medico giallo E un infermiere Gli infermieri Sono tutti uguali Non c'hanno colore Più le due macchinine E le due macchinine Devo trovare un posto Io dico Va bene Tanto quei posti C'è no Le metto direttamente Sul parcheggio Perché tanto questo qui Un parcheggio Da due Ok Quindi queste sono le macchine Dei due che ho a lavorare Nell'ospedale E le dovete sempre mettere Sull'entrata Perché poi regole successive Ve le faranno spostare Per l'ospedale Comunque Regola vuole che All'inizio Li dovete sempre mettere Sull'entrata La terza azione Poi ovviamente Ci si sposta Anche di qui Come vedete Si va avanti Fatta la prima azione Fatta la seconda azione Si va alla fase Della terza azione Si va in fondo Ogni volta dovete sempre Rimettere i cubetti E quant'altro Arrivati In questa fase Della terza azione Dovete Ricoverare i pazienti E quando andate A ricoverare i pazienti Vi vengono incontro I punti fila Che è la cosa più bellina Perché quando si va Ad esempio all'ospedale Al cup C'è sempre da mettersi in fila C'è sempre chi ti sta davanti Magari Un caso rosso Un paziente che deve passare Per metterli Tutto quanto E avete tanti punti fila Che sono un punto Per ogni giocatore Più ciascun Eliporto Le metto qui ad esempio Ciascun Eliporto O entrata Che avete costruito Al vostro ospedale Quindi se il vostro ospedale C'ha due entrate E un eliporto Avete la bellezza Di un punto di base Un punto per ogni entrata Quindi altri due punti E si va a tre E un punto per l'eliporto Quindi mettiamo a caso Un ospedale C'ha due entrate E l'eliporto Ha quattro punti fila Quando andate Ora per fare Le accoglienze O I ricoveri Andate direttamente Sempre Ricordatevi ragazzi L'ordine di iniziativa Dovete seguirlo Sempre Quindi il giocatore blu È il primo che decide E ha quattro punti Ordine di fila I punti fila Potete spostare I pazienti Che vedete qui Li dovete spostare Anche una volta ancora Come le regole di costruzione Sempre e solo Ortogonalmente Quindi Potete dire Che ne so Io Ho bisogno Di qui cosa c'è Un paziente giallo Che deve essere operato In psichiatria Un paziente rosso Perché la colonna rossa Che deve essere operato In cardiologia E un paziente bianco Tanto sono bianchi Tutte due Che deve essere operato In oftalmologia Insomma È anche difficile Attenere a mente Dall'oculista Quindi Vi ricordate Prima che io ho assunto Un medico giallo Per farmi le operazioni No? Che è questo qui Io dico Ok Ho un medico giallo Sempre vedendo l'ordine E Ho un infermiere Che è questo qua Che sono sull'entrata Che devono entrare Faccio ok Il medico giallo Più un infermiere Mi consente di operare Un bianco E un arancione Che mi sono accanto Però un rosso Io non ce la faccio E magari Io l'unica cosa Che ho costruito Per ora È proprio il reparto Di cardiologia E dico Eh però cardiologia Un rosso Non ce la fa Con quelle che c'ho Ora Quindi ci vado a perdere Perché faccio morire Un paziente Che vi ricordo Che questi che non vengono operati Schiattano Muoiono Quindi come faccio Ti viene incontro la coda Posso fare O un'azione ortogonale Quindi posso dire Sposto questo con questo E ci metto il giallo Con una sola azione Così ora lo posso operare Perché posso operare Un giallo È del colore del medico Oppure Se questo fosse così Potrei dire Allora prima azione Inverto questi due Ortogonalmente Prima azione della fila Seconda azione della fila Faccio così Ok Quindi ora devo operare Un arancione Che ce la faccio Terza azione della fila La scambio E faccio così Quindi dopo aver operato questo Ricordatevi sempre Che quando fate Un'operazione Sempre 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 Potete Dove No potete Dovete spostare Tutti verso destra Quindi nel caso ci siano dei buchi Dovete spostare Tutti gli altri pazienti Che vanno a scalare Quando l'agenda Delle prenotazioni Sarà piena Non dovrete più Pescare nessuno Quindi per fare Tutte queste azioni E mettere il giallo Qui e l'arancione Accanto Io ho speso Tre punti fila Mi rimane un quarto punto fila Con il quarto punto fila Posso direttamente Togliere questo cubettino Dal rosso Metterlo nel mio Dipartimento Di Cardiologia E operarlo Quindi questo lo tolgo E me lo prendo Col quarto punto azione Questo lo sposto Automaticamente E viene qui E il cubettino giallo Che ora vi faccio vedere Lo metto direttamente Nel reparto Dove praticamente Sono andato a ricoverarlo Ah Quando ricoverate qualcuno Bordana Tra la volta La sua macchinina Quindi la macchinina Che non è la macchina Del paziente Perché il paziente Può essere portato Anche nell'elicottero Però la macchina Con cui il paziente Se ne andrà Quindi ancora una volta Devo trovare un posto Per la macchina E mettiamo caso Che anche questa macchina La parcheggio Se non cade Qui Ora Si va nel turno Abbiamo finito tutte le azioni Tutto quello che dovevamo fare Tutti i giocatori Hanno fatto le progazioni Ok Quindi La nostra situazione Attuale È quella che Sull'entrata Abbiamo un dottore Un infermiere E un paziente Perché anche i pazienti Poi lo dovete spostare Anche i pazienti Devono essere trasportati E ora entra il tracciato Del tempo Che vi diceva all'inizio In questo tracciato Dovete fare Meno 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 Azioni possibile Perché se no Il vostro ospedale Diventa un ospedale Troppo lento Che la gente rischia di morire E fate delle code Troppo lunghe Per operare la gente E soprattutto Quando andate a usare Questi punti Movimento Punti azioni Usate nel meno possibile Perché se no Il vostro ospedale Perde di spettacolarità Perde di importanza Iniziate a retrocedere Nel punteggio Della tabella Che avete visto Iniziate a retrocedere Quindi Dobbiamo iniziare A muovere Ora Lui era Uno da operare Vi ricordate In cardiologia Va bene uguale Si fa conto Che invece di cardiologia Era da operare Qui in psichiatria Quindi ora Io ho un tot Di personaggi Da muovere Perché vedete C'è il medico C'è il L'infermiere Che me lo posso portare dietro Anche no Tanto è del mio stesso colore Ho usato appunto E punti fila di prima Però Io devo muoverli Tutti quanti Quindi io muovo Questo Il dottore Lo metto nel reparto Nell'ambulatorio Come vedete il disegno Ci possono stare Due medici Ok Due medici di qualsiasi colore E Quanti ricoverate volete Nel magazzino Vedete Per uno Ci può stare Solo un portantino Quindi un solo portantino Per magazzino Nella sala operatoria Invece ci può stare Un medico E un paziente Quindi Vabbè Più ovviamente Gli infermieri Quindi Metto Il dottore qui E per spostarlo Dall'entrata A entrare dentro L'ospedale Mi costa un'azione Che poi ve lo faccio vedere Il tabellone Quindi teniamo conto Che è un'azione Una seconda azione Mi porto al medico Una terza azione Per far entrare Anche l'operato Se io mi dovessi spostare Da un reparto A quell'altro O da un ospedale All'altro O da una stanza All'altra Della struttura Se mi muovo Da un trasportatore All'altro Quest'azione Mi costa zero Quindi Non contatela mai Quando usate i trasportatori A questo punto Che siamo arrivati Quaggiù Si arriva nella fase Dell'operazione Che poi ovviamente Si guadagnano punti Soldi e tutto quanto Si va nella fase Dell'operazione Ci siamo Perché già il medico È giallo Il ricoverato è giallo L'infermiere è verde Ma comunque anche non mettendo Ce non serviva a nulla E quindi l'ho operata E ce l'ho fatta ad operarlo E il tizio non mi è schiattato E vado a guadagnare dei punti E Dell'importanza A livello ospedaliero Che poi vi faccio vedere successivamente Punti che poi Soldi e tutto quanto Che possano essere alzati Ad esempio Se avete dei giardini E delle cose particolari Che allietano la vista Anche dei ricoverati Guadagnate dei punti Fama aggiuntivi Quando finisce Il turno di gioco Tutti quanti I personaggi Mipol che avete Devono stare in delle stanze specifiche Tipo Se avete dei ricoverati Ma non ancora operati Nel vostro ospedale I ricoverati Non possono stare in sala operatoria Devono stare ovviamente in ambulatorio I portantini Devono stare nel loro magazzino I dottori possono stare Sia in ambulatorio Che in sala operatoria Però Ricordatevi che ad esempio Un portantino Non potrà mai finire il suo turno Dentro una sala operatoria Oppure ad esempio Il ricoverato Non potrà mai finire il suo turno Dentro invece un magazzino Devono sempre stare Ognuno nel proprio posto E poi ci sono I tracciati Che vedete qua su Che sono Il tracciato dei punti Quindi punti Fama Che guadagnerete Andando avanti Girando il tabellone E poi Invece qua giù Da questa parte C'è il tracciato Dei punti in movimento Quelli che vi dicevo prima Quindi se fate Le tre azioni Che abbiamo fatto prima Si fa uno Due tre E vedete c'è Un cursore rosso Con un numero Questo vuol dire Che ci fa retrocedere Direttamente di un valore Sulla tabella del punteggio Quindi nel caso Con due punti Fossimo arrivati a cinque Saremmo tornati a quattro Perché questo Ce ne fa perdere uno Quindi se ipoteticamente Per fare tutte le vostre azioni Perché l'avete calcolato male Ma proprio a livello logistico D'ospedale Dovete fare Boh che ne so Quindici azioni Quindici movimenti Per spostare tutto E mettere apposto tutto Perdete cinque Quindi magari eravate a sei punti Eravate davanti A tanti altri giocatori Che erano più dietro di voi Si però andate a perdere cinque E quindi tornate direttamente a uno E' un gioco Molto 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 logistico Poi successivamente Arriva la fase Dell'affari Che vedete qua giù Che ogni paziente Curato con successo Vedete qua su in cima Ogni paziente curato con successo Vi dà questi soldi elencati Noi abbiamo curato con successo Un paziente giallo Che ci dà 12 dollari Poi Ci danno 2 dollari in più Vedete per ogni giardino Che abbiamo Quindi nella nostra struttura E ci danno 6 dollari in più Per questa tessera speciale Che abbiamo Una tessera speciale Importantissima Che ora vi faccio vedere E' il triage Costruitela Sempre Vedete c'ha un meno 3 all'orologio Vuol dire che vi dà Meno 3 A tutte le azioni Che avete usato nel turno finale Quando dovete spostare I pazienti e i dottori Mettetelo sempre il triage E' importantissimo Quindi vedete I pazienti A seconda di come Sono stati curati Del colore del paziente Vi danno Una ricompensa Poi Dovete pagare il mantenimento Ovviamente Quindi un dottore Arancione Vi costa 3 Un dottore rosso Vi costa 4 Un infermiere Vi costa 1 Un portantino Vi costa 1 Per ogni paziente Che invece è morto E' deceduto Perdete un punto E poi qui C'è tutta quanta La stima Vi fanno vedere Tutti quanti i punti Già addirittura Se avete la sala operatoria Se avete i giardini Insomma qui c'è tutto quanto La tabella degli affari Che vi fa vedere Le entrate Quello che guadagnate E le uscite Perché ovviamente Più dipendente avete Migliore sarà il vostro ospedale Però più punti azioni Per muoverli E soprattutto Più punti mantenimento Poi c'è una fase Di amministrazione Ragazzi Che è un pochino Più lunghina Perché c'è da rifare Un setup particolare Vedete questo qui Il simbolo Che praticamente vi dice Che avete passato un turno C'è da fare un setup particolare Perché poi c'è da tenere conto Dell'università Ogni medico Nell'università C'è da fare un setup veloce Perché passa di livello E passando di livello Si va sempre nei colori Come vedete Più alti Quelli alla sinistra Quindi loro due gialli Che erano qui Loro due scusate Bianchi che erano qui Si tolgono Interranno due dottori gialli E poi ovviamente Bisognerà andare a pescare Un altro dottore Per l'università Perché bisogna riempire Per il setup iniziale Che questa volta Dei due giocatori Quindi nel caso io Andassi a pescare Dal sacchettino Un nuovo medico Universitario da assumere È un colore arancione Che va qui Nel caso fosse stato Un colore bianco Invece ad esempio Come quello di prima Si scalavano loro due su E lui andava sotto Seguendo sempre l'ordine Quindi questi Sono i nuovi medici E gli infermieri Non si ripescano più Perché vedete Sono divisi per turno I portantini Non si ripescano più Perché anche loro Sono divisi per turno E per quelli che sono Più di quelli Non ne potete avere Però vi ricordo Che quando costruite Un magazzino Automaticamente Vi dà un portantino E poi tutti quanti Gli altri setup Che vanno fatti in fondo Che forse È la parte Leggermente più lunga Ah E cambia anche La sequenza Del turno in fondo Come vedete Bisogna invertirla A seconda Dei soldi Che sono stati spesi Ed altri fattori Quindi anche qua Su in cima La sequenza del turno Andrà a cambiare Ragazzi Alla fin fine Come vi ho detto All'inizio Che mi ricorrego Ancora una volta Il gioco non è complicato Il gioco è complesso Perché c'ha tante 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 cose Da tenere a mente E forse A un certo punto Potrebbe un po' Scoraggiare E mettere paura Perché è bella Come idea Nel senso Ti devi costruire L'ospedale Lo puoi costruire Su più livelli Puoi costruire un campus Ovvero puoi costruire Più ospedali Per ogni ospedale Puoi fare la sua entrata Per ogni ospedale Puoi fare la sua specializzazione Il suo dipartimento E tutto quanto Però Le azioni da fare Sono tre Perché l'avete visto Costruzione Metti le strutture Assunzione Assumi la gente Che c'è sulla mappa Alla fine Dov'è la difficoltà Del gioco È una cavolata E poi La fase di Per azioni Quindi Operare la gente Portarli Dalle ambulatorie Nelle sale operatorie Guadagnare punti E quant'altro Con un fatto di file E priorità Il problema non è qui Cioè Le tre azioni Sono spiegate In zero minuti Può partire Che sono l'ogoroico Sono facilissime Il problema è tutta la parte Affari che c'è dopo Che praticamente Sono dei setup Che dopo le vostre azioni Vi portano Al turno successivo La fase dell'affari Che dovete vedere I soldi che entrano I soldi che invece escono E in più Arriva la fase Di amministrazione Dovete intanto Resetappare tutto Cambiare i medici Che sono passati Di livello Poi Dovete stare attenti Che i medici Nel vostro ospedale Siano nelle stanze Cioè i medici Scusate Il vostro personale Ospedaliero Siano i punti giusti Perché magari Dovete anche farci attenzione Eh no Però il portantino Può finire l'azione lì No Ti sei dimenticato Di mettere Che ne so Un paziente Nell'ambulatorio L'ha lasciato Nella sala operatoria Senza operarlo Oppure l'ha lasciato Sull'entrata Lo devi spostare Ah Allora aspetta Però per spostarlo Devo usare un'azione In movimento in più Cioè dovete tenere a mente Tante Tante Tantissime E forse troppe cose Secondo me Quindi per fare un gioco Del genere È facile Dopo una partita Avete già capito il funzionamento Poi sicuramente qualcosa C'era da dire in più Mi sarà sfuggito Però Per quanto il funzionamento È facile È uno di quei giochi Che ti fanno fumare la testa Perché devi tenere in mente Tante cose Ed è un gioco Questo secondo me Per tutti Davvero può essere un gioco Da portare a qualsiasi tavolo Però è un gioco Su cui non c'è la battuta Non c'è lo scherzo Non c'è Oh l'avete visto Il film è l'altra sera Ragazzi qui devi stare concentrato Perché c'è da pensarne Veramente 20.000 Se devo dare un voto A un gioco del genere Malgrado Tutta la sua Complessità Gli do un 8 e mezzo Sul 10 Secondo me Meritatissimo Meglio Questo di tanti Videogiochi usciti Recentemente E io ringrazio di cuore La GiochiX Per avermene offerto Una copia per la recensione Ed è un gioco ragazzi Veramente molto interessante Soprattutto nella variante Deluxe Dove ci potete mettere Anche gli zombie Cioè ci sono gli zombie Nell'ospedale E la mia gatta Che gira La sua taffare casino Quindi Quindi Faccio la chiusura con Morgana Oh ti ricovero eh In neurologia Te lo dico subito Perché te sei matta Ringrazio la GiochiX Per avermene offerto Una copia per la recensione Grazie veramente di cuore È sempre un onore Collaborare con voi Grazie Federico Per avermene mandato Questa copia E ragazzi Primo link in descrizione Per Attento al microfono Dove acquistarlo Più tutti quanti I nostri social Fatemi sapere Cosa ne pensate Ovviamente con un commento Ciao ragazzi Alla prossima